anche la spadaccia non me la cavo malissimo come arma la uso abbastanza bene devo dire non eccezionale ovviamente io con la spadaccia monster hunter c'ho rifatto il secondo giro guarda quando sono partito col personaggio don no no ho finito anche iceberg porto ma no no ho fatto la storia sono andato un po' interreguida ancora no non ho fatto quelle grandi cose ma come sconto territoriale questo è morto dai su alla fine ho preso troppo garone in faccia e quell'altro sulla cura guarda va morto bene brava ma cosa pensavo di avere un baccello che fava mi è venuto preciso con la bocca su sul colpo finale del true shot vabbè dai si proverà il lascen in due vediamo che succede ma il beh è morta anche 35 mila capi l'escen ce n'ha 67 mila ce n'ha quasi il doppio se non sbaglio ho 64 mila insomma ora non ricordo ma era intorno a quelle cifre lì però con l'equipaggiamento master tanker si dovrebbe riuscire a fare qualcosa di buono si si vede vediamo ma per tempo pooo hm